Ciao bambini! Venite, correte, mettetevi comodi, lasciate quello che state facendo. Sediamoci tutti in cerchio, oggi voglio raccontarvi una favola. La protagonista, indovinate un po' chi è? Ma certo, la meridiana! Ciao, cosa sei? Sono una meridiana. Cosa sono quelle lettere? Non sono lettere, sono antichi numeri romani. Io, quando voglio sapere l'ora, guardo il mio orologio. Tu devi essere molto vecchia. Sì, sono stata giunta alla facciata molti anni fa, all'inizio del 1800, quando era abitato da sovrani, da re. Ma allora il palazzo deve essere bellissimo. Ma certo, guarda che capolavoro l'affresco di Luca Cambiaso. E adesso cosa si fa dentro il palazzo? Oggi il palazzo ospita mostre, eventi, anche laboratori per bambini. Música Ciao bambini, buon divertimento! Ah, dimenticavo! Il bambino della mia favola si chiama Ettore e la meridiana Tiziana. E il vostro? Fatecelo sapere!